Che ricordo ha di quel giorno di suo padre? Di quel giorno è un giorno bruttissimo, è stato uno shock che ancora oggi ne parlo con le conseguenze, cioè ne riporto al dosso le conseguenze. Come ho sempre raccontato, perché avevo dieci anni e mezzo e lo stavo aspettando a casa, da un momento all'altro doveva tornare, invece ho preso questa notizia dal telegiornale dell'Evola. E questa cosa ha fatto sì che è stato uno shock, come ho detto poco fa, che mi ha portato a ricercare questa verità, questo rancore interno che avevo nei confronti della giustizia che non veniva mai fuori. Adesso sono contento perché è stato fatto un grande lavoro da parte dei difensori, da parte della magistratura e quindi sono fiducioso anche sull'esito finale.